musica Marci Burloni musica bello tutti ragazzi sono marci e benvenuti nel non so quanto episodio della crash landing insieme a me credo che sia il quinto 8000 è il quinto vero si ragazzi siamo nei quinti episodi insieme a dade dada alla cassa 4 dada alla cassa ok vabbè io ho fame ragazzi ho fame ma non ho niente da mangiare perfetto perfetto dei oh una mela e il mela no non mangiarle perché? perché vai contro natura non essere un vegano infatti non mi da niente no infatti non ti da un cazzo dobbiamo mangiare la roba della food class qui però in che facciamo le farm che tra l'altro se ne parla penso nell'episodio 825 di questa serie allora in questo episodio ragazzi abbiamo come missione allora da fare allora marcio voglio allora apri la fornace aspetta dobbiamo fare l'even more che si fa cooked silkstone manual detected non me lo fa fare perché devo cuocere lo dobbiamo fare la fornace alla slab esatto vedi che ci sono tre pezzi di iron si l'ho già preso fai un secchio facciamo un secchio bravissimo così facciamo anche la aspetta fammi prendere prima il silkworm della xnylo xnylo ma l'hai preso te ma che cazzo no no non ho preso nulla te lo giuro oddio non si vedeva non si vede allora abbiamo fatto questo coso qui manual detected claim reward ok abbiamo preso dei il rice seed che sarà quello per fare un'altra sequestra credo si infatti rice seed 1 ci serve anche il riso ok quindi dobbiamo coltivare il riso vabbè poi faremo le farno più in là adesso quindi se è una zappa tu ce la fai fare la zappa con questa cosa qui si no non lo fare adesso perché tanto non abbiamo acqua per coltivarle è vero ok no l'acqua la possiamo fare con il coso qua eh si ti sto dicendo fai il secchio fatto il secchio andiamo a prendere l'acqua eh vedi che qui dentro c'è una soligente d'acqua si prova a prenderla un attimo che ti dice il secchio? acqua water bucket si ok prova a fare shift tasto destro qui dentro in questa col fungo? si no ok no riprendi l'acqua no nulla perché c'è una questa che ci chiede di collezionare mille millibugget di no 100 eh 100 c'ho scritto eh no mille 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 water bucket no Deido ho sbagliato cosa? ho fatto una cazzata cosa hai fatto? guarda mi ammazza raga guarda mi ammazza che cosa hai fatto? eh ho schiacciato sulla cosa del riso manual detected e mi ha preso il riso che avevo eh vabbè tanto ce l'avevo pure io ah ce l'hai tu? ah ok posso allora non ho posto allora aspetta quale che te l'ha chiesta? ah hunger games non lo fare non lo fare perché bisogna coltivarlo eh si si infatti adesso quella dell'acqua quale che era? eh quella dell'alberello verde eh io ne ho perché devo metterla scusa? eh quello è il punto che non possiamo farlo eh pensavo si potessi fare you must use the qds eh che palle ste quest allora io ho una domanda raga ma su questo pacchetto piove? che piove mai? comunque boh io adesso ho un dubbio prova a leggere cosa c'è che non ho capito bene io ah perché si leggono le quest scusa quello che pizze c'è? allora qua altra acqua qua non ce n'è allora i have found a way to get water if you drop sapling in the liquid transport oh mio dio sul serio? bisogna fare liquid trasposa? ce li abbiamo già ne abbiamo due dentro eh ok e bisogna mettere oh mio dio è vero ah no prendo gli stick e cento di water si si marci quindi possiamo bere possiamo bere dov'è che l'hai messa l'acqua? eh nel primo fluo di trasposer quello acceso lo metto? no quanti sapling hai? eh 6 no 16 scusa eh mettine 10 anzi 9 mettine 9 ne ho messi 8 vabbè sticassi ci danno gli stick e ci danno oddio ci danno l'acqua ci danno gli stick e ti danno la water si oh maio ma ci abbiamo la riserva di acqua infinita vieni qui vieni qui fammi mettere l'acqua facciamo no 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 non la mettere lì no ah facciamo l'acqua infinita mica sei un genio si ok acqua infinita significa anche clay oddio raga oddio raga oddio raga mi sto sentendo bene oddio spei ma questa qui è acqua no? oh mio dio marci aspetta ma come faccio a prendere la scusa nel secchio? metti il secchio sopra no spei ma ci vuole un altro un altro sapling l'ultimo è a 900 su mille ah è vero si non l'avevo visto 900 ok no aspetta vi gira ok 1000 metti il secchio sopra ok ok abbiamo il water bucket l'hai preso te no e neanche io ce l'ho ah l'ha messo nell'altro c'era l'uscita sbagliata vabbè ce l'ho io sto andando ok vai 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 mettilo guarda quanto sono veloce guardami no raga guardatelo what the fuck mi stai dicendo che ci vogliono tre secchi d'acqua oddio facciamo quanti sapling hai? aspetta ma io ho 0 io ne ho 7 eh vedi che ce ne sono no aspetta però ce ne sono due ah no no sono cresciuti vedi che ci sono anche quelli di birch ce ne sono 4 tu usane 2 io adesso ne ho 8 così no ce ne sono 2 di birch eh no gli altri 2 sono fuori tranquillo passameli ok se sono fuori si marchi tranquillo se li sto passando sono fuori tranquillo eh aspetta sto arrivando no vai tranquillo le ho messi le ho messi e 8 devi darmene uno di uno di cose devi darmene perché uno di oak sapling dobbiamo tenerlo ok poi ragazzi ah ma qui di oak e sapling ce ne sono altri 9 tieni ah non è a posto madonna eh i secchi posso ai secchi ok ok leva sti stick da qui inutili come la merda ok il secchio è andato dall'altro lato bastardo non l'ho fatto in tempo a prenderlo buttamelo buttamelo cosa che stai facendo no ma allora ci vogliono 3 secchi d'acqua ma che mafia è o addirittura ce ne vogliono 4 ma forse non c'è l'acqua infinita o forse non c'è l'acqua infinita no raga ma ci se non c'è l'acqua infinita guarda che siamo nella merda quanti sampling hai io ce ne sono ok ne ho 9 speri ma tu di di oak quanti hai nell'inventario adesso ne ho 1 ok piantalo vabbè no ma tanto c'è questo qui che ce li do usiamo tutti no vabbè pianta sì vabbè marci con la spiega che abbiamo noi sono dei quanti tu stai tranqui ok io sto rompendo la legna qui fuori adesso guarda che ci troppa zero alberi no ma va allora 600 700 800 no raga mi piace un botto io l'ho buttato l'ultimo sampling me ne pentirò ok butto pure quello dei birch poi giro questo metto questo qui ok bastardo te l'ho preso prima bastardo vai vai a riempire ragazzi è il momento della verità ti prego non ci credo aspetta aspetta c'è l'ultima possibilità non ci credo raga l'ultima possibilità è questa fai quello a 3 eh prova oh mio dio no non va non c'è l'acqua infinita non c'è l'acqua infinita raga tu mi stai dicendo che dobbiamo andare avanti a ad alberi raga mi sto sentendo ma vabbè facciamo il facciamo un cazzo non ci credo non ci credo aspetta aspetta mi dai un po' il secchio devo provare a fare una cosa vai vai prova allora se io prendo il seccio prendo una secciata di acqua da qui e la butto dentro questo coso se io adesso prendo una bottiglina completamente vuota che è qui ce la ce l'ho io e faccio così questa qui diventa water bottle possiamo bere sono un genio si però un secchio per versi una bottiglietta d'acqua 10 sapling per una bottiglietta d'acqua va bene va bene ma lo sai che abbiamo un problema quale ti ricordi che noi una volta abbiamo un uomo di branch si eh non ce l'abbiamo più ah bello bello eh no credo sia un problema perché vabbè al massimo usiamo mister no penso che penso che ci servano comunque ragazzi con questa perla di marci e dade contro l'acqua noi vi lasciamo e ci vediamo io penso che mi metterò a piangere possiamo giocare a my little pony my little pony oh dade dade chiudi qua per favore che qua mi sarei l'epola poi sei graccioso con quale velocità quindi ragazzi ma non me quindi ragazzi per questo è tutto con la morte di dade in diretta non è vero ho sentito qualcosa ciao e bella a tutti addio